Nel nome del Padre e del Signore, lo Spirito Santo, amo e ti amo con la Tua volontà. Vieni in Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a Te come in mia per soddisfare la preghiera di tutti. E per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature, mia Divina Maria. Ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle Tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle Tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno. Nella Divina Volontà, Mamma Santa, Tu che sei la Regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli Tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a Te mi affido, affinché guidi i miei passi nel Regno del Volore Divino e stretto alla Tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa la volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui muliaribus e benedictus fruttus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 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 mi fondo in te, nel tuo volere Gesù, affinché tu fia, regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere Gesù. Scegli, scegli, supremo volere, vieni, vieni a regnare tra noi, Gesù conquista tutti, vincino ma un volere, affinché tu fia, regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere Gesù. Affinché tu fia, regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere Gesù. Dal libro di cielo, volume quarto, capitolo 103, 25 gennaio 1902. Questa mattina, dopo avere molto ostentato e venuto il mio adorabile Gesù, ed appena visto gli ho detto, amato mio bene, non ne posso più, portatemi una volta per sempre con voi nel cielo, oppure lasciatevi per sempre con me su questa terra. E lui, fammi osservare un poco dove è giunta la febbre del tuo amore, che siccome la febbre è naturale, quando giunge ad un grado alto, a virtù di consumare il corpo e farlo morire, così la febbre dell'amore si giunge ad un grado altissimo, a virtù di sciogliere il corpo e far prendere il volo all'anima, addirittura verso il cielo. E mentre ciò diceva, ha preso il mio cuore fra le sue mani come per visitarlo, ed ha continuato a dirmi, figlia mia, la forza della febbre dell'amore non è giunta al punto, ci vuole un altro poco. Poi faceva atto che voleva versare, ma io non gli dicevo niente, e lui quasi rimproverandomi, dolcemente ha soggiunto. Non sai che il tuo dovere è che la prima cosa che dovresti fare nel vedermi, è di vedere se c'è in me qualche cosa che mi affligge, ed amareggia, e pregarmi che la versassi sopra di te? Questo è il vero amore, soffrire le pene della persona amata, per poter vedere in tutto contenta la persona che si ama. E io vergognandomi di ciò ho detto signore versate, e lui avversate e è scomparso. Capitolo 104, 26 gennaio 1922 Questa mattina, mentre mi trovavo nel solito mio stato, mi vedevo innanzi a me una luce interminabile, e comprendevo che in quella luce vi rimorava la Santissima Trinità, ed insieme vedevo innanzi a quella luce la Regina Mamma che restava tutta assorbita dalla Santissima Trinità, e lei che assorbiva in sé tutte e tre le divine persone, in modo che restava arricchita delle tre prerogative della Trinità Sacrosanta, cioè potente, sapiente, carità. E siccome Dio ama il genere umano come parte di sé, e come particella uscita da sé, e desidera ardentemente che questa parte di sé stesso ritorni in lui stesso, così la mamma partecipando a questo ama il genere umano di sviscerato amore. Ora, mentre ciò comprendevo, ho visto il confessore ed ho pregato alla Vergine Santissima che si interponesse presso la Santissima Trinità per lui, e lei ha fatto un inchino portando la mia prece al trono di Dio, ed ho visto che dal trono divino usciva un flusso di luce che copria tutto il confessore, e mi sono trovata in me stessa. Capitolo 106, 8 febbraio 1902 Questa mattina nel venire il mio dorabile Gesù mi ha partecipato parte della sua passione. Ora, mentre mi trovavo sofferente, il Signore, per rincorarmi, mi ha detto Figlia mia, il primo significato della passione contiene gloria, lode, onore, ringraziamento, riparazione alla divinità. Il secondo è la salvezza delle anime e tutte le grazie che ci vogliono per ottenere allo stesso scopo. Per ottenere allo stesso scopo. Onde chi partecipa alle pene della mia passione, la sua vita contiene in sé questi stessi significati, non solo, ma prende la stessa forma della mia umanità. E siccome detto umanità sta unito con la divinità, anche l'anima che partecipa alle mie pene sta a contatto con la divinità e può ottenere ciò che vuole. Anzi, le sue pene sono come chiavi per aprire tesori divini, questo finché vive qua giù. E poi sta riservato anche al di là nel cielo una gloria distinta per sé che le vien darà dall'umanità e divinità mia, in modo da assomigliarsi alla stessa mia luce e gloria, ed una gloria più speciale per tutta la corte celeste, che le verrà data per mezzo di quest'anima, per ciò che io le ho comunicato, perché quanto più le anime si sono assomigliate a me nelle pene, tanto più da dentro la divinità uscirà luce e gloria, ed ecco che tutta la corte celeste parteciperà a questa gloria. Sia sempre benedetto il Signore e tutto per sua gloria e onore. Bene, molto istruttivi come sempre questi splendidi scritti che iniziamo a meditare, cominciando dal primo. Molto graziosa la scena dipinta da Gesù. E lascia anche molto da pensare questo episodio. Noi sappiamo che Luisa già a questo stato della sua vita amava molto Gesù, sicuramente molto più di quanto lo amano la maggior parte di noi. aveva avuto esperienza di Gesù, gli era apparso tante volte, quindi sicuramente era già attivo in lei quel moto che vivono le anime appunto privilegiate, che appunto per aver pregustato la bellezza del Paradiso, anche solo attraverso la Santissima Umanità di Gesù, e come lei stessa dice, sono più di là che di qua, quindi cominciano a desiderare fortemente insomma la morte per poter portare a consumazione piena tutti i desideri, godere della presenza di Gesù della visione beatifica, senza interruzioni e senza possibilità di perderla. Gesù entra in questo gioco, quando lei le chiede fammi morire presto, portami per sempre una volta con voi, oppure lasciatevi per sempre conmi su questa terra, quindi o mi porti in Paradiso, oppure stiamo in stato di apparizione ininterrotta, questo è quello che diceva Luisa. E' molto grazioso Gesù, perché Gesù non la vuole mortificare, perché purtroppo stare in stato di apparizione ininterrotta, credo che sia un pochino difficile, e forse Gesù l'avrebbe dovuto contrariare. Allora lui prende spunto dall'altra alternativa che gli ha proposto. Ecco, per fargli è interessantissimo, la visita al cuore, dice che ha preso il cuore come per visitarlo, e ha detto, no no, non ci siamo, la febbre è ancora bassa. Ci vuole, e poi è interessante che dice ci vuole un altro poco, qui come contano il poco dall'altra parte, e quell'altro poco sarebbero stati altri 45 anni, perché se la memoria non mi inganna, lui si è morto nel 1947, qui siamo nel 1902, mi sembra di sentire una madonna di Fatima, quando Sir Lucia gli chiese se Francesca e Giacinta andavano in cielo, le diceva sì. Poi colgendo la domanda di lui stessa dice, io ci vengo in cielo, dice sì ci vieni, però devi rimanere ancora un po' sulla terra, perché Dio si riteva a farmi conoscere e amare, insomma. quel po', detto a Sir Lucia, è stato quasi 90 anni, insomma, quindi, 99, 80 sì, quindi, allora non dobbiamo stupirci, insomma, di queste cose, perché dall'altra parte, il tempo, da un lato non c'è per niente, perché stanno nella dimensione dell'eternità, dall'altro scorre in una maniera un pochino differente dal nostro. San Pietro dice davanti agli occhi del Signore, un giorno sono come mille anni, mille anni come un giorno solo, per cui ho già altre volte, insomma, scherzando un po', se è possibile, insomma, ma credo di sì, insomma, il Signore, credo che abbia un buon santo senso dello humor, che sia sempre garbato e pulito, lo dico, nel libro dell'Avocalisse c'è scritto, finisce così, no, ecco io vengo presto, sono le ultimissime parole dell'ultimo capitolo, quindi Gesù dice, ecco io vengo presto, lo sa, uno si immagina che sia una cosa repentina, tant'è vero che sappiamo dai commentatori, che nel Nuovo Testamento, si vede anche in alcune lettere di San Paolo, per esempio quelle di Saronicesi, aspettavano la parousia come evento imminente, cioè non pensavano che andasse avanti duemila anni e più, perché non è ancora finito, insomma, molto probabilmente sulla base di queste parole, ma come ci ha messo tutto questo tempo Gesù? Gesù potrebbe dire, se agli occhi di Dio, mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, questo scritto nella Bibbia, scusiamo, Gesù è morto e risorto intorno al 30 dopo Cristo, non siamo neanche arrivati al 2030, quindi non sono neanche passati duemila anni, quindi il nostro Signore potrebbe dire, ehi, e sono passati manco due giorni, che faccio, ritorno prima di quando, quasi quasi ritorno prima di quanto, di quattro mesi risorge, aspetta un pochino, insomma, facciamo passare almeno tre, quattro giorni, e che vuol dire tre, quattromila anni, no, quindi, eh, vabbè, questo, ecco, per, per la consolazione postuma di Luisa, ecco, se giriamo nella, nella divina volontà, possiamo mandargli questa consolazione, nel momento in cui ha, ha sentito queste parole, e ha, ha avuto queste risposte, no, ecco, poi Gesù dice la cosa più importante, però, perché dietro questa domanda, no, un po' come dietro la domanda, dei figli di Zebedeo, che ci riportano i Vangeli, no, dice, signore, facci sedere uno alla destra, uno alla sinistra, e Gesù dice, vabbè, questo non è importante, è importante che voi beviate il calice che devo bere, ecco, quindi, certamente Gesù gradisce, i desideri, gli aneriti, dei suoi figli, no, però gradisce assai di più, come le spiega, dice, guarda che il tuo dovere, che quando mi vedi, devi chiedermi, hai qualche sofferenza da condividere con me? Perché il vero amore soffre le pene della persona amata, per poter vedere in tutto contenta la persona che si ama, saranno una grande lezione, no, e certamente, e nel regno della divina volontà, questo lo sappiamo ancora di più, no, chi vive in comunione con Dio, vive una vita felice, già da qui, si possono ricevere delle grazie straordinarie, non dobbiamo desiderarle, ma, si potrebbero ricevere, e sono certamente delle cose bellissime, però, lo stesso episodio evangelico, anche della trasfigurazione, una quando Pietro dice, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, ed una per Lì, è chiaro che noi vorremmo anticipare il paradiso da qui, ma non come si anticipa veramente, ecco, nella divina volontà, con la felicità che accompagna la vita, proprio con la beatitudine, quindi, perché insomma, fare con Gesù, è bellissimo, no, Gesù però gli dice, sì, gradisce anche queste cose, perché insomma, desiderare Gesù, e voler stare con Lui, io penso che ripari anche per molte ingratitudini, ecco, siamo alla vigilia della festa del Sacro Cuore, indifferenze, no, a gente non gli era in porta, zero proprio oggi di Gesù, neanche che è esistito, insomma, no, però questo buon desiderio, va temperato da quello più importante, fino a quando siamo su questa terra, il nostro compito è soffrire con Gesù, essere amici della croce, e farlo per la sua consolazione, e perché Lui sia contento, non è che Godwin vederci soffrire, ormai questo non serve, a dire queste cose, no, presumo che chi ascolta queste meditazioni, insomma, non abbia ancora una fede così piccina, no, da temere, ecco, fra intendimenti, no, e le sofferenze, sono necessarie alla salvezza delle anni, e alla consolazione del cuore di Gesù, perché prendere le nostre sofferenze, può fare tanto del bene, può anche avere, chi lo aiuti, nella sua opera, di retenzione dell'umanità, quindi è solo per questo, perché se potesse risparmiarcele tutte, tra virgolette potesse, insomma, certamente Gesù non mancherebbe di farlo, non gode certamente delle sofferenze, dei suoi amici, in se stesse ne gode, per quello che esse significano, per quello che esse valgono, e per quello che esse, gli consentono di fare, e per quello che esse poi, fruttificheranno in gloria, all'anima che le ha abbracciate, per l'amore di Gesù, in cielo, ecco, secondo paragrafetto, ecco, bellissimo, ecco, negli scritti appare chiarissimo, appare chiarissimo, anche nella benedizione lunga, nella Dina Volta, si vede benissimo, che le tre prerogative della Trinità Sacro-Santa sembrano quasi una sorta, devo dire, di attributi principali e poi appropriati a ciascuna persona divina, sono la potenza, questo lo diciamo anche nel credo, credo in un solo Dio Padre onnipotente, quindi l'onnipotenza che sappiamo, non voglio fare una lezione di teologia, insomma, durante una meditazione, l'onnipotenza è caratteristica della Divinità in se stessa, quindi è perfettamente condivisa da Padre, Figlio e Spirito Santo come tutti gli altri attributi, si attribuisce principalmente al Padre appunto perché il Padre è l'origine della Divinità, quindi è un'attribuzione, non è una proprietà personale, perché le proprietà personali sono cosa distinta, nella Trinità è tutto in comune, salvo la distinzione delle persone, però appunto la potenza si attribuisce al Padre, così come il Figlio, ecco che scorre, scusate, che procede per via di generazione come intelligenza divina, ha come attribuzione la sapienza, e lo Spirito Santo che procede come ispirazione di amore del Padre e del Figlio, ha come attribuzione la carità all'amore, no? Quindi le tre prologative delle tre persone della Trinità Sacro Santo sono potenza, sapienza e carità, e queste chiaramente sono proprietà che traspaiono mano a mano che la nostra vita cresce nell'unione con la Divina Volontà. noi non possiamo diventare onnipotenti, certamente, no? A meno che Dio non ci faccia doni straordinari, però possiamo diventare tra virgolette potenti nel senso di raggiungere un dominio perfetto di noi stessi, un controllo perfetto di noi stessi, un esercizio perfetto delle virtù, questo sì e questa è la partecipazione alla potenza di Dio, la forza eroica per dire di no al peccato, anche quando all'agitarsi dalle passioni, no? Questo deve comparire. Compare anche una grande sapienza, quindi che è la capacità di leggere tutte le cose in relazione alla Divina Volontà, proprio questa, la sapienza, unitamente poi ad una grande prudenza, cioè la prudenza si distingue dalla sapienza perché è la retta ragione delle cose da farsi, quindi se io sono fuso con l'intelligenza e con la sapienza divina sarò ponderato nelle decisioni non precipitoso e crescerà sempre di più il discernimento per fare la cosa giusta al momento giusto, che è l'arte delle arti, noi dobbiamo dobbiamo pensare che la stragrande maggioranza degli errori, non dei peccati, delle stupidaggini che fanno gli esseri umani li fanno perché manca questa virtù, manca la prudenza e quindi non si ponderà bene quello che si fa, non si valuta bene e si fanno un sacco di stupidaggini, anche in perfetta buona fede o a volte anche pensando di fare del bene, no? E poi la carità, quindi la carità è un ardentissimo amore anzitutto verso Dio, guardiamo sempre nella divina volontà e la raccomandazione di Gesù a Luisa, vivi come se nel mondo non esistessimo altro che io e te e in ogni cosa che fai falla sempre solo per amore mio e a partire da questo centro che è il centro della carità, il centro della carità non era il mondo del prossimo o il nome di Dio però poi questo centro di carità fuoriesce in una carità squisita ed esemplare nei confronti del prossimo. La visione che Luisa ha sembra richiamare la famosa frase che la Madonna disse alle tre fontane no? Io sono quelle che sono nella Santissima Trinità. tutta assorbita dalla Santissima Trinità e tutta assorbente la Santissima Trinità perché lei queste prerogative rivine le ha avute con perfezione le ha proprio tirate, assorbite dal trono stesso e dal cuore stesso di Dio e hanno poi rifulso in tutta la sua persona terrena no? e quindi questa partecipazione intima alla vita trinitaria rende la Madonna dotata di sviscerato amore verso il genere umano perché partecipa dello sviscerato amore che ha la Santissima Trinità che vuole che la creatura che lui considera attenzione che ci vogliono le virgolette come parte di sé altrimenti si scade nell'immanentismo nel panteismo parte di sé virgolettato significa l'ho fatta io l'ho creata io è cosa mia e l'ho creata per me nel senso che la sua felicità sarà avermi e per me la mia felicità sarà vederla felice sono queste le coordinate in cui leggere queste esortazioni del resto bellissime anche molto interessante vedere la potenza della preghiera di intercessione lei prega per il confessore e vede il confessore ammantato di luce ecco dice Sant'Omaso quando noi facciamo una preghiera al Signore che la preghiera arriva sempre purché non ci siano ostacoli in noi ed è sempre efficace quindi non stanchiamoci mai di pregare per noi stessi e per il prossimo l'ultima considerazione sono i significati della passione di Gesù ecco noi pensiamo sempre che anche qui che la passione Gesù la sofferta per la nostra salvezza quindi con un occhio principale a noi anche questo è sbagliato è vero ma non è la cosa principale perché Gesù dice e Gesù dice e su questo io penso subito a Sant'Omaso no? Aquino quanto è chiaro questo concetto no? il primo significato della passione contiene glorie lode onore ringraziamento riparazione alla divinità questo è anche il primo significato della Santa Messa Santa Messa non viene principalmente celebrata per applicare i frutti della passione per i vivi i defunti e i presenti d'accordo? ecco perché altrimenti supponiamo che il Consiglio Sardote non ci avesse intenzione e non potesse celebrare con il popolo ne conseguirebbe che la celebrazione della Messa non servirebbe ma invece questo la Chiesa non l'ha mai insegnato con il Consiglio Sardote può anzi sarebbe bene che lo faccia anche se non c'è un obbligo canonico celebrare la Santa Messa anche senza popolo e anche senza intenzione perché? perché quella Messa contiene da Dio gloria infinita lode infinita onore infinito ringraziamento infinito riparazione infinita è anche il significato delle nostre sofferenze cosa dice San Paolo? glorificate Dio nel vostro corpo sia mantenendolo casto puro e lontano dal peccato ma sia anche quando abbiamo qualche tribolazione offriamo i nostri corpi come sacrificio vivente santo e gradito Dio noi siamo stati fatti creati per dare la massima gloria possibile a Dio e Gesù questo lo fate in primis e per tutti e perfettamente poi secondo scopo salvezza esattamente delle anime e tutte le grazie che ci vogliono per ottenere lo stesso scopo ma è lo scopo secondario della stessa passione a morte di Gesù questo non ci deve scandalizzare questo lo si trova nei documenti della Chiesa per esempio il decreto sul santo sacrificio della Messa del concilio di Trento spiega benissimo questa cosa il secondo è la salvezza delle anime certamente ora sappiamo che Luisa ha avuto la grazia di partecipare straordinariamente alle sofferenze della passione di Gesù come sempre cerchiamo di fare quando meditiamo questi scritti analogicamente si possono applicare alcune cose che Gesù le dice anche alle situazioni di tribolazione di sofferenza ordinaria non vuol dire che siano piccole che possono essere anche molto molto grandi senza che ci sia insomma una come dire a Luisa una crocifissione mistica insomma una partecipazione mistica alle sofferenze proprio che Gesù ha avuto durante la sua passione fisica ecco riprende un pochino quello detto nel primo paragrafetto ciò che ci unisce a Gesù e che dà tanta gloria a Dio è come e quanto sappiamo soffrire per Lui e soffrire in Gesù significa prendere la stessa forma della sua umanità e dare alle nostre piene la capacità di diventare chiavi che aprono i tesori divini inoltre si assumono una tale somiglianza alla luce e alla gloria di Dio a quel punto che ridonda non soltanto a gloria della persona interessata ma ridonda anche a gaudio degli stessi cittadini della Gerusalemme del cielo del paradiso ecco quindi come dice San Paolo possiamo discutere così le sofferenze della vita presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio tanto belle tanto santificanti per noi che sono la potenza la sapienza e la carità tienici sempre una grande purezza di intenzioni per poter non solo offrire le sofferenze ma tutto ciò che facciamo al tuo Gesù per mezzo del tuo cuore immacorato ecco perché tutto abbia una caratura divina una valenza divina un modo superante divino e non umano perché il regno della divina volontà presto si instauri nei nostri cuori nella divina volontà nel nome del Padre del Pio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti dall'animale ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti